Jean sognava ad occhi aperti da tre anni piantava alberi in quella solitudine ne aveva piantati centomila di centomila ne erano spuntati ventimila di quei ventimila contava di perderne ancora la metà a causa dei ruditori o di tutto quel che c'è di imprevedibile nei disegni della provvedenza Ristava Restavano diecimila querce che sarebbero cresciute in quel luogo dove prima non c'era nulla. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info